la legalità era il mio mestiere bmv vai quello è il signor otto uscivo spinto da qualcosa di curioso che mi soffiava le spalle affamato di prete e violento come un animale che non ha abbastanza spazio il lavoro come il tuo alla fine si fa che sei per me era diverso io ero in guerra è un cattivo amico ma se ci dai la roba finisce tutto mi sentivo eccitato e in caccia frugavo i marciapiedi le strade dovunque alla ricerca dell'obiettivo c'è chi corre in macchina e chi si butta col paracaduto e lo apre alla fine io se mi devo spaccavo faccio come me pare non ci sono problemi che copro io non ti puoi non ci torno qui voi entrate nelle case della gente per bene venite a prendere i nostri soldi qua c'è stava il collegio c'è venivo del ragazzino ma volete fa finita troppi casini qua si spara troppo ci porti ste bui del chiasso cazzo 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 ti sparo in bocca canta toni hai visto non succede solo nei film succede pure davvero sono non Grazie a tutti.